Presidente Renzi, quando il fumo che ha alzato si dissolverà e le sue promesse si dovranno rapportare con la realtà, e concludo, non sarà uno schianto solo per lei, ma sarà un drammatico schianto per tutto il Paese. Ma almeno leggendo le dichiarazioni e ascoltando anche oggi in quest'Aula gli intenti di alcuni suoi colleghi di partito, sono convinto che avrà l'appoggio incondizionato di tutto il Partito Democratico. Matteo, stai sereno.